Non ci saremo a cazzo della mare, qua sicuramente non ci sarà nessun gruppo ultrassi, perché purtroppo è arrivata una brutta notizia e purtroppo dobbiamo rimaneremo sicuramente a Salerno. Però, come avete fatto fino ad ora, dovete sudare e sputare sangue in questa maglia. Noi, attualmente, sinceramente, siamo contentissimi di come stanno andando le situazioni. Non pensate sempre ai media e ai social. I media e ai social non ci sono fatti proprio, ma siamo quelli che vi sosteniamo sempre. Va bene? Fussate, no? Ti dà? Te lo dico a tutto, va giù. Ok? Vada a mangiare, va giù. Noi siamo sempre con voi, va giù. Noi ci si dà, va giù, fitte, no? Finché si dà la maglia, anche se si perde, come a Cremona, va giù, asci sempre l'applauso. Noi saremo sempre con voi, perciò, va giù, a cazzo della mare vada a mangiare. Perché là sono sporchi, ragazzi, poveri. Prima uomini e poi giocatori a cazzo della mare, va giù. Vabbè, sabato, ma vedi? E sabato a sera, oh! Sabato a sera, quando tornate per i trefondi, viate pure a divertire, oh! Vate qui a divertire, perché vuoi morire da fuori, capito? Non pensate alla gente che mi ha detto, no! Vi gioco e viate a divertire, perché vado qui pure per divertire. Però da volta, onorate la madre e sfrutate la madre. Non ti dimenticate la fresca, vabbè? Siamo sempre con voi, siamo sempre con voi, siamo sempre con voi! Viste, viste, grazie! Grazie, viste! Viste, viste!